evento unico in italia e direi forse in europa qui oggi alla villa renoir una fantastica cena in acqua con spettacoli internazionali incredibili tutto da vedere e intervistatrice animatrice ufficiale perché lei è ufficiale della serata la mitica la grande giosquillo grazie caro è un evento particolare perché stasera si brinda non solo all'estate ma la vita in un modo veramente molto unico esclusivo ma anche inclusivo perché siamo tutti a piedi nell'acqua quindi un'atmosfera davvero poetica da favola un'atmosfera che ti fa tornare all'eleganza quindi l'eleganza non soltanto esteriore ma anche l'eleganza di persone dopo tutto questo dolore insomma ci sta ci sta abbiamo voglia di di stare a condividere momenti meravigliosi un tramonto stupendo sono felice di essere a villa renoir ebbene siamo con lui l'anima colui che ha disegnato questo posto proprio l'ha costruito con le sue mani paolo renis buonasera ragazzi benvenuti in villa renoir allora siamo in questo questa location una location particolare alle porte di milano e stasera naturalmente come potete vedere c'è la fantastica ceninacco il dinner water show che è diventato un appuntamento ormai annuale da quattro anni è diventato un appuntamento unico dove tutte le persone si riversano da tutte le parti d'italia per assistere a questa serata speciale ma con me stasera ho anche degli amici importanti e sono ospiti illustri che sicuramente conoscete c'è l'Ubamba e poi il nostro Mitch i nostri amici dj e non solo con il programma le iene altri programmi di successo mi vi una una bellissima location che tu conosci ti vediamo radio televisione tante cose no sempre impegnato sì assolutamente sì sto spingendo sull'acceleratore perché voglio assolutamente ritornare a lavorare in maniera costante in tv e poi lavori in radio con un nostro amico in comune e quindi impegnata anche lì due giorni alla settimana e poi sono molto contenta comunque di aver ritrovato un amico ebbene abbiamo un grande dj il numero uno ma soprattutto un inviato speciale delle iene Mitch e non solo di tutto di più di tutto di più produttore delle iene ha scritto anche un libro scriverò presto un libro scriverò presto comunque torniamo a questa splendida location imperdibile unica Paolo mi ha chiamato e io non potevo non venire quindi questa sera sarò uno dei primi a buttarsi qua in acqua e a mangiare queste specialità la commetto la moglie la commetto la moglie voleva venire va bene allora lasciamo questa splendida serata nella speranza ma sicuramente ci divertiremo come dei pazzi e ovviamente rimanete qua perché ci sarà anche questa fantastica sorpresa dal cielo speriamo che non ci cada in testa un aeroplano ciao il water dinner show by Villanueva adesso alzano sbaglio al show e se alzano sbaglio al show